Ben trovati, non c'è trasmissione televisiva nazionale, regionale o territoriale che non parli del caso ILVA, della ipotesi di chiusura, ma sicuramente di fermo disposto dalla procura e di posti di lavoro a rischio, malgrado la gravità anche sanitaria che in questi anni l'industria di Riva ha prodotto nel Salento e quindi nella città ionica. Ma ricordate un po' di mesi fa quando io ho messo in risalto una conferenza stampa in cui il Presidente Vendola, da sempre ambientalista, al fianco del patron Riva disse che l'ILVA era un polmone per l'economia e io risposi a Vendola dicendo sì, e i polmoni dei cittadini che fine devono fare ancora dopo decenni di malattie che hanno purtroppo divorato una parte della popolazione ionica. Però io voglio leggervi oggi velocemente una lettera che mi ha inviato il dottor Antonio Giangrande, che è un cittadino impegnato, impegnato contro la mafia, contro tutte quelle storture anche del sistema giudiziario che lui nota e mi rendi conta un suo pensiero a proposito dell'ILVA. Vorrei dare un mio contributo alla discussione sul blocco degli impianti dello stabilimento Tarantino, non che la mia opinione conti tanto, ma almeno per il fatto che per questa, come per altre problematiche, ho dato il mio apporto inascoltato per la soluzione dei problemi, questo in virtù della mia esperienza e lui dice preparazione. Una domanda sorge spontanea, perché l'ordinanza di sequestro degli impianti del VILVA solo ora dopo 40 anni di inquinamento e perché si agisce contro i lavoratori? Ha ragione, sono 40 anni, prima si chiamava i Talsider, poi vi sono stati i passaggi, l'acquisto, dicono anche favorevole economicamente da parte del gruppo RIVA, da sempre si è discusso di questo, però dopo 40 anni c'è la magistratura che interviene. Allora, fermo restando, la disquisizione sul è giusto o non è giusto il blocco degli impianti e posti di lavoro a rischio? Perché la magistratura per 40 anni non si è occupata del problema? Per quale motivo le istituzioni competenti anche al controllo non si sono mai occupati dell'aspetto legato all'inquinamento? ma continuo la lettera. Gli ambientalisti vogliono desertificare l'economia, i politici ci hanno portato alla fame, i magistrati prima insabbiano e poi mannaiano. Ora, fermo restando l'attuale azione giudiziaria, ha ragione che probabilmente alcun magistrato in questi 40 anni si è posto il problema, ma principalmente si è posto la violazione dell'enorme antinquinamento che l'Italcider prima e l'Ilva poi, come dire, ha sempre ignorato. Ma c'è la legge, chi inquina paga. La legge non dice chi inquina chiude. Perché devono pagare solo e sempre i lavoratori e non i poteri forti? Diritto al lavoro e diritto alla salute perché non possono coesistere? Sì, è vero. Anche in altre parti d'Italia, nella stessa Sardegna, chi ha inquinato ha pagato, ha bonificato e ha reso regolare il funzionamento della propria industria. Oggi invece c'è a questo punto una trattativa interessata e tutelata, chissà da chi per agevolare non certo i lavoratori e i cittadini di Tarantin, ma forse qualcun altro. L'Ilva, come altre grandi imprese, privatizza il profitto e collettivizza le perdite. Sarà così anche stavolta? Cassa integrazione per gli operai e bonifica dell'ambiente inquinato tutto a spese dello Stato e quindi nostre, aggiungo io. Se chiude l'Ilva il danno non è per la famiglia Riva. Loro hanno grandi principi del foro che li difendono, compreso, afferma il dottor Gian Grande, l'ex presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati proprio di Taranto. In altri tempi propose una classe action per danno, anche esistenziale, contro l'Ilva, affinché si intaccasse l'interesse privato dell'azienda. In questo modo, essa per forza di cose era costretta a limitare le emissioni nocive contro le persone e l'ambiente per non moltiplicare le azioni di tutela della salute. Azioni che limiterebbero di fatto il profitto dell'azienda stessa. È a ragione nel fare questo ragionamento. Nessuno ha seguito il mio consiglio. Non vorrei che l'Astio contro l'Oliva, mosso da vari personaggi tarantini e il disinteresse dei cittadini tarantini nei confronti delle sorti dei suoi operai fosse insito nel fatto che proprio quegli operai sono cittadini della provincia. Ma non credo che ci sia tanto cinismo da parte di coloro che vivono nel capoluogo e sappiano quanto i cittadini tarantini abbiano la puzza sotto al naso nei confronti dei provinciali. Naturalmente allo stato dei fatti senso di superiorità mal riposta. Credo che questa sia un'affermazione un po' avventata perché comunque l'ambiente è inquinato dall'Ilva oltre ai posti di lavoro. Ma in tutto questo momento chi è che parla sempre? I politici. Allora l'Ilva, l'Ital Cedar, da chi è stata garantita e coperta in questi anni se inquinava l'ambiente? Quali sono i politici che hanno condiviso un percorso senza imporre e portare a Roma tutto ciò che avveniva di dannoso nel cielo di Taranto? Ecco oggi fanno come sempre i comunicati stampa per tutelare la salute e gli operai, ma loro sono stati dei pessimi rappresentanti del popolo perché non hanno vigilato e denunciato. Non hanno avuto neanche il coraggio di salire sul palazzo di giustizia e dire mettete il naso, accendete un faro, visto che ci sono le prove, che l'Ilva inquina e probabilmente non rispetta i limiti massimi di emissione. E oggi a ragione Gian Grande rischiano i cittadini di dover pagare per conto dello Stato, il gruppo uscirsene sicuramente con poco sacrificio, subire il licenziamento da qui a pochi anni degli operai e poi un interrogativo, non è che tutta anche questa una manovra perché comunque il gruppo aveva già deciso intorno al 2018-2020 di abbandonare il territorio del Salento e quindi Taranto e lasciare comunque a casa gli operai? Questo è un altro interrogativo che qualcuno dice che tanto punto di domanda possa non essere. A domani!